Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Con l'informazione di Telecosta Smeralda nel nostro magazine oggi la Nautica, se ne è parlato ad Olbi in un convegno proprio sul diportismo e anche sulla cantieristica, insomma un settore che si conferma traino per l'economia dell'isola. Vediamo. Il 75% del flusso dei giga yacht a livello mondiale ricade in Sardegna solo nei mesi estivi. L'obiettivo della regione è fare in modo che chi arriva in Sardegna tutto l'anno trovi le condizioni per rimanere anche nei mesi invernali. Ieri a Olbia, durante il convegno The Blue Economy Goes Green, ripensare alla nautica, si è discusso di sviluppo economico del mare. Uno sguardo sulle possibilità future tra nautica innovativa ed elettrica, portualità e servizi, turismo e nuove competenze. Un bellissimo convegno, molto futuristico, riguarderà le novità che da qui a breve tempo vedremo. Si è parlato veramente di Blue Economy che va incontro al verde, si è parlato di imbarcazioni che verranno alimentate dell'energia elettrica, quindi ci sarà tutta l'attenzione per la riconversione dei porti e per la creazione all'interno dei porti dei punti strutturali affinché queste imbarcazioni possano ottenere il massimo supporto. Diverse le opportunità per il settore nell'isola date dai finanziamenti europei per la sostenibilità e l'evoluzione tecnologica. Nella costruzione del programma 2021-27 noi abbiamo pensato proprio di anticipare, ancora prima dell'approvazione ufficiale del programma alla presenza della Commissione Europea oggi, di anticipare un tema sulla nautica perché è uno di quei punti che ci dà più prospettive di crescita. C'è tanta nautica in Sardegna ma non basta, si può fare molto di più, si può più che raddoppiare i punti di PIL presenti nel bilancio della regione perché stiamo trascurando delle opportunità, soprattutto in una logica di innovazione. La sostenibilità che è fondante in tutto il programma 2021-27 ci dice anche imbarcazioni elettriche, biosostenibili, ecosostenibili, energeticamente sostenibili, quindi c'è il concetto di sostenibilità che però ha anche la necessità di professioni. Non abbiamo professioni per esempio sulla nautica di porto su imbarcazioni elettriche, è un nuovo settore, completamente nuovo, che va dall'utilizzo di centraline e ovviamente di approvvigionamento sulle banchine all'utilizzo di meccatronici che devono avere a che fare non con motori a propulsione, ovviamente a combustibili, ma elettrici che hanno una manutenzione totalmente diversa. La Gallura ospita circa la metà dei posti barca dell'intera isola e nel suo territorio sono attive oltre 60 imprese nei settori della nautica e della cantiristica. A Olbia, in località Calasaccaia, c'è un polo di prestigio a livello internazionale che investe sempre di più sulla qualità e l'innovazione con la costruzione di imbarcazioni di lunghezza superiore ai 40 metri. Maxi, super e mega yacht rappresentano il futuro per le larghe fette di economia del territorio. Abbiamo tantissime aziende, abbiamo soprattutto tantissimi operatori nel settore nautico, abbiamo una qualità eccessa di produzione di servizi da e per la nautica e questo ci porta a dover spingerci ancora di più a fare cose innovative, sempre in senso ecologicamente corretto, non soltanto nel risparmio ambientale, ma soprattutto nella qualità della vita per tutti i nostri concittadini in primis e per tutti quelli che vengono a passare qualche giorno da noi in secondo luogo. Tra i progetti che hanno fatto vedere, ce n'è uno in particolare che vi è piaciuto? I progetti per le barche elettriche sono assolutamente una cosa importantissima. Riuscire a mantenere ottime qualità di navigazione, sicurezza nella navigazione e mancato inquinamento, inquinamento zero, vuol dire che noi riusciamo ad andare nella strada che ci è permessa. Dalla nautica da di porto, le navi passeggeri perché Mobi e Tirrenia hanno già aperto le prenotazioni per l'estate 2023. Vediamo. L'estate 2023 è ufficialmente iniziata, almeno per i collegamenti via mare da e per la Sardegna. Mobi Tirrenia e Toremar hanno infatti aperto le prenotazioni e proposto alcune promozioni sulle tariffe per il prossimo anno, offrendo così la possibilità a quanti vogliono venire nell'isola per le vacanze di programmare per tempo viaggi e ferie. Due nuove navi di Mobi Fantasy e Legacy dotate di alimentazione ibrida saranno in servizio sulla Livorno Olbia Livorno, operativa tutto l'anno con quattro partenze al giorno, una diurna e una notturna in entrambe le direzioni. La Genova Olbia Genova sarà operativa dal 18 maggio e allungherà la stagione fino al 22 ottobre prolungando l'estate e da fine luglio a inizio settembre in particolare ci saranno fino a sei partenze al giorno, tre in entrambe le direzioni. Ancora la Genova Porto Torres Genova conferma la propria presenza sulla linea per 365 giorni l'anno, con corse notturne per toccare le coste sarde o arrivare nello Scalo Ligure già nelle prime ore della mattinata. E anche la Civitavecchia Olbia Civitavecchia sarà operativa tutti i giorni con partenze notturne in entrambe le direzioni, ma dal primo giugno al 17 settembre sono previste fino a quattro partenze al giorno, due notturne e due giornaliere. Dal 2 giugno al 10 settembre infine torna la Piombino Olbia Piombino, che collega la Sardegna con la penisola in 5 ore e 30 minuti di navigazione. Ma la vera novità, peraltro molto attesa dai turisti al di là delle bocche di Bonifacio, è il ritorno delle linee da e per la Corsica. La Livorno-Bastia Livorno sarà operativa dal 18 maggio, allungando la stagione fino al 22 ottobre con la Mobi Vincent, mentre la Genova-Bastia Genova sarà operata con corse notturne dal 25 maggio al 1 ottobre con la Mobi Dada. Come sempre, la Napoli-Palermo-Napoli sarà operativa tutto l'anno con corse notturne in partenza 365 giorni l'anno, sia da Napoli che da Palermo, ma da fine luglio ad inizio settembre le partenze raddoppieranno per arrivare fino a 4 corsi al giorno, due notturne e due diurne. E se sul fronte i navi passeggeri arrivano buone notizie, meno lo sono invece per il trasporto navale di mercine entrate in uscita dall'isola. Criticità evidenziate dal consigliere regionale del Partito Democratico Roberto De Riu in un'interrogazione all'Aggiunta Solinas, l'esponente della minoranza che vedete nelle immagini, ha infatti denunciato i disagi dovuti all'assenza di navi cargo a Olbi e Porto Torres, determinando l'impossibilità per le aziende del Nord Sardegna di accedere ai servizi di trasporto per alcune tipologie di merci e costringendo le aziende del centro-nord dell'isola ad affrontare lunghi e onerosi spostamenti per recarsi a Cagliari. A onor del vero, aggiunge il consigliere Demme, è stata recentemente predisposta a una nave merci che copre la tratta Porto Torres-Genova, ma all'interno della quale sono presenti pochissime cabine che non bastano per tutti gli autisti costretti così a non imbarcarsi. Insomma, da qui l'appello del consigliere Deriu proprio alla Giunta regionale per risolvere con urgenza questa situazione. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Cabras, scusate ad Austis, vi raccontiamo una storia, quella ad essa a Gravarissi, una donna appunto cabrarese che si innamora di un pastore e poi, insomma, ascoltate, vedete in seguito. Tre storie nostre, leggende, forse meglio. Due luoghi, Cabras e Austis, una donna e un pastore, scoppia la passione. L'elicriso riempie l'area e la vista si ferma e sofferma. Su, Sagra Braissa, quella donna oggi pietra che riassume la storia. Pietra, scultura naturale, sembianza e abito tradizionale, codici, sardi e narrazione. Che piace? Piace scoprire, scoprire Austis. Quasi 756 abitanti, più o meno. Provincia di Nuoro, centro perfetto dell'isola. Barbagia di Ololai, alcune indicazioni semplici, semplici, per arrivarci dalla strada asfaltata fino allo slargo. Poi, preparate le scarpe da trekking. E una camminata che può durare tanto, dipende da voi e dall'andata. Un chilometro e siete arrivati. Arrivati ad Austis, comunità, paese, vocazione agropastorale, terra di trasumanza, ovvero quella migrazione stagionale delle greggi, delle mandre e dei pastori, che si spostano da pascoli situati in zone collinare o montane, verso le pianure, già la pianura. E proprio durante questo viaggio loro si incontrano. Il pastore e la donna, la donna e il pastore. Dopo essersi conosciuti, i due, innamorati, decisero di non pendersi mai più. Promessi sposi e manzoni, qui non c'entra nulla. Lui, il pastore, ripartì. Lei, la ragazza, aspettò, aspettò e aspettò ancora. Il tempo passa, in fretta, fino a oggi. Lui non tornò mai più, ma lei non si perse d'animo. E da Cabras cominciò il viaggio, il suo. Sposato decide e riesce a raggiungere Austis, terra del pastore, terra dell'amato. E qui scopre la verità. Quell'uomo era sposato, già sposato, distrutta dal dolore, decise di ritornare a piedi a casa. Ma ancora quel dolore e la delusione la pietrificò durante il cammino di ritorno. Di veneroccia, storia e tradizione, tramandata come i greci ed esoppo. La favola mostra che non bisogna scherzare con i sentimenti. Sentimenti di Sardegna e di luoghi e comunità e di cose belle della nostra isola. Che magari pochi conoscono. Che forse vedi così en passant, accidentalmente, disfuggita, durante una gita o in macchina. Magari una foto e poi, chissà, cose belle dell'isola, la nostra. E una considerazione, forse, amara. Togliamo il forse. Sagra Barissa, come tante altre bellezze nostre, uniche. Se fossero in altri paesi, in qualsiasi altro paese d'Europa o del mondo, siamo sicuri, certi, che per raggiungerla, vederla, magari da vicino, bisognerebbe staccare un biglietto. Ma questa è un'altra storia, non della Sagra Barissa, un amore inteso come quello per la Sardegna. Adesso un altro viaggio fino a Dolianova, al Museo d'Art, che ospita fino al 12 di novembre una mostra dedicata a Mario Delitala, uno dei più grandi incisori del Novecento. Vediamo. È considerato uno dei più grandi incisori del Novecento. Mario Delitala, classe 1887, ha raccontato con le sue epine in modo puntuale e forte i contenuti di questo mondo. Nel Polo Museale d'Arte dell'Ex Torre dell'Acqua, a Casa Falconieri, a Dolianova, in via Carducci, è stata allestita una mostra unica nel suo genere, con delle opere mai viste del maestro Diorani. Il progetto culturale è organizzato dall'Amministrazione Comunale e Casa Falconieri, associazione che da oltre 30 anni si occupa di diffondere e attualizzare i linguaggi dell'arte e degli incisori a livello internazionale. Prosegue il progetto d'Art a Dolianova. In questo caso abbiamo il piacere di poter esporre le opere dell'incisore Mario Delitala, insomma un artista prestigiosissimo della nostra Sardegna. vorremmo continuare questo percorso e aprirci ulteriormente con i fini di coinvolgere il maggior numero di visitatori possibili. Il Luoghi del Segno, questo il nome del lavoro proposto dall'incisore morto a Sassare nel 1990, propone anche tra le opere esposte tre cartoni preparatori ritrovati, montati in sequenza con una misura di 282 cm x 520 cm, che contengono anche le correzioni per la decorazione del Salone della Camera di Commercio di Trapani. Inoltre sono presenti due inedite pitture preparatorie su carta per il Sacrario dei caduti di Agrigento, che provengono dall'archivio dell'Associazione Mario Delitala. Io preferisco descriverlo più dal lato umano, perché sono la nuora, e l'ho potuto conoscere meglio già però in tarda età, perché quando l'ho conosciuto aveva già 80 anni. È un uomo dolcissimo. Come artista io posso poco dire su Mario, perché sono stati scritti libri che possono chiarire più di me che cos'è Mario Artista. Io lo considero naturalmente un grande artista e purtroppo non abbastanza apprezzato al di fuori della Sardegna. Questo è un cruccio, perché lui merita e meritava molto di più. Forse non è riuscito ad avere certi apprezzamenti al di fuori della Sardegna proprio per questo suo carattere schivo. Lui amava l'arte e lavorava per l'arte. Da contorno all'allestimento dell'incisore Sardio i risultati di un laboratorio di incisione per ragazzi delle classi elementari di lì istituti di Pirri 1 e 2. Il percorso espositivo è visitabile fino al 12 novembre 2022, il venerdì e il sabato dalle ore 17.30 alle 20.30 e la domenica dalle ore 10.30 alle 13. oppure su prenotazione al numero 347-18-66055 o scrivendo una mail a casafalc-tiscali.it Veramente tutto, grazie per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.